In collaborazione con Le imprese tra pubblico e privato e questo è il tema di questa sera a Trentino Economia dentro le nostre tasche. È importante sapere come la provincia investe anche i suoi fondi per aiutare delle imprese che crescono oppure per gestire delle imprese che fanno un servizio pubblico. Ne parleremo con i nostri ospiti di questa sera che vado a presentare. Tony Spezzapria è il vicepresidente di FLY. Buonasera. Buonasera. Diego Lanner è il presidente di Trentino Sviluppo. Buonasera. E Franco Sebastiani è il presidente di Trentino Trasporti Esercizio. Buonasera. Buonasera a tutti. Cominciamo proprio con Franco Sebastiani. Franco Sebastiani in realtà è qui anche come delegato dell'Ordine dei Commercialisti che sostiene questa trasmissione, però è un commercialista diciamo prestato a una società pubblica che fa un esercizio molto importante perché quello dei trasporti è un diritto fondamentale dei cittadini, quello della mobilità. Ecco, ci dica come è approdato questa esperienza e che cosa porta della sua professione dentro questa presidenza di Trentino Trasporti Esercizio. Beh, direi che in realtà spesso i commercialisti sono prestati alle funzioni pubbliche, non sempre in qualità di amministratori come è il mio caso, ma in qualità di consulenti, in qualità di revisori dei corti, in qualità di partner rispetto a dell'analisi di carattere più generale. Mi riferisco alla collaborazione con l'ente pubblico per dei ragionamenti sulle leggi sull'economia e quant'altro. Insomma, quindi il ragionamento sul ruolo del professionista di per sé è molto ampio, articolato e sicuramente fattivo. Sono approdato alla carica di prima vicepresidente e poi presidente di Trentino Trasporti Esercizio per averne dato la disponibilità perché in quel momento si ricercava sostanzialmente anche un tecnico e quindi aver avuto la possibilità di mettere a disposizione del pubblico, come dire, il conoscere, il sapere di una professione, ma anche una concezione, un'applicazione di tipo privatistico ad un'azienda pubblica credo sia un binomio assolutamente importante ed interessante. Ecco, questo è un po' il nodo, presidente Sebastiani. Allora, come si fa a gestire con criteri manageriali un'azienda che, ahimè, strutturalmente, credo, preveda dei deficit di bilancio perché il trasporto pubblico è difficile che possa essere inattivo, o sbaglio? No, il trasporto pubblico oggettivamente non è che difficilmente sarà inattivo, non sarà mai inattivo nel senso che anche a livello nazionale il grado di copertura dei costi è assolutamente basso. Diamo una percentuale o delle oscillazioni? A torno al 20% per la provincia autonoma di Trento che ha improntato la politica tareffaria nel senso di andare incontro all'utenza e quindi tenere le tariffe molto basse rispetto ad una soglia del 30-35% su alcune altre realtà a livello nazionale. Si staccano un po' le grandi città perché evidentemente hanno numeri diversi e quindi il discorso cambia. Ecco, ma un approccio manageriale significa, per esempio, insomma, limitare al massimo queste passività o comunque cercare di rendere più efficiente possibile l'azienda o no? Io credo che l'approccio manageriale applicato al pubblico non sia tanto distinto e distante da quello applicato al privato, ovvero sia si tratta di ottimizzare la gestione delle risorse tenendo ben presente quali sono gli obiettivi in termini sia di quantità che di qualità, quindi credo che il concetto sia un pochino uguale per tutti. È chiaro che Trentino Trasporto Esercizio, quando io l'ho presa in carico, partiva già da una buona base, siamo riusciti a fare ancora degli ulteriori miglioramenti e in questo momento siamo considerati una delle migliori aziende in Italia, al punto tale che circa un anno fa abbiamo presentato un'indagine svolta da un soggetto terzo a livello nazionale, dove per la prima volta, se vogliamo, nell'ambito dei servizi pubblici si è applicato un concetto di costo standard e quindi è stato determinato che in quel caso, ma anche poi in termini di qualità e su altri fattori, le tariffe piuttosto che altre analisi, siamo risultati vincenti e quindi al primo posto in Italia. Quindi una certa soddisfazione. Assolutamente, ma anche il fatto di essere stati i precursori di un concetto che secondo me vedrà interessato sempre di più le pubbliche amministrazioni, quindi quando si parla di costo standard evidentemente non si tratta di una normalissima media, ma di una determinazione, di un indicatore che tenga conto di tutta una serie di variabili che sono quelle che poi dicevo prima, non solo economiche, ma anche un rapporto in termini di quantità e qualità. Chiarissimo. Dal trasporto pubblico di Trentino Trasporti, dagli autobus, passiamo agli aeroplani. E allora qui introduco Tony Spezzapria, vicepresidente di Fly. Fly, lo dice già il nome, si parla di volo. Ci dica che cos'è Fly, che è una delle realtà imprenditoriali più interessanti nate sul territorio, in Val Sugana in particolare, in questi ultimi mesi in Trentino. Ci dica, cos'è Fly? Fly è un'officina meccanica di finitura che si propone sul mercato appunto dell'aeronautico, dell'aerospazio, dell'energia, quindi in tutti quei settori in cui è necessario un apporto di tecnologia elevatissimo, con una precisione nelle lavorazioni estremamente accurata. È un'azienda che nasce nel 2008-2007 da un'idea imprenditoriale forte, con una visione al futuro di un certo tipo, e che ha avuto la fortuna e anche il merito, oltre che la fortuna, di poter siglare un importante accordo per 20-25 anni con la Rolls-Royce, l'azienda leader, tra le due aziende leader nella produzione di motori per avioggetti. Io la fermo un attimo, avete capito bene, un accordo che dura 20 anni, forse di più. Dipende dalla vita utile del motore, tipicamente 20 anni. Ok, comunque con Rolls-Royce, che non fa solo quei meravigliosi macchinoni che vediamo nei film, ma fa anche degli aerei molto efficienti, dei motori per aerei, certo, non fa tutto l'aereo. Allora, la cosa è molto interessante, ne parliamo poi anche con Diego Lanner, che è presidente di Trentino Sviluppo, ma prima, perché Trentino Sviluppo è partner di questa iniziativa molto importante di Fly, ma prima vediamo la scheda filmata con una breve intervista a Paolo Spagni, dirigente del Dipartimento Industria della provincia, che spiega che cos'è Trentino Sviluppo nella politica industriale della provincia di Trento. È un protagonista importante delle cosiddette politiche di sistema o di contesto, cioè servizi pubblici offerti a una generalità di imprese. Questi servizi possono essere aggruppati in tre filoni, la finanza di impresa, le strutture produttive e la promozione. Sul primo versante, Trentino Sviluppo partecipa al capitale di imprese che vengono prescelte in ragione della loro utilità collettiva, tipico esempio, impianti di risalita. Per quanto riguarda le strutture produttive, Trentino Sviluppo concorre all'obiettivo di razionalizzare questa risorsa scarsa, lo spazio per le attività economiche, acquistando e urbanizzando aree o realizzando immobili che vengono ceduti o locati ad imprese prescelte secondo priorità fissate dalla provincia. Alcuni di questi immobili sono di tipo modulare, a utilizzo rotativo e si prestano particolarmente per ospitare piccole imprese in fase di crescita di tipo innovativo. Per la promozione, il Trentino Sviluppo accompagna poi i progetti di investimento sul territorio da parte di imprenditori esistenti o da parte di nuove imprese e a tal fine è anche costituito delle società apposite come Manifattura Domani per la reindustrializzazione di un sito storico roveretano oppure Distretto del Porfido o Sofì Veritas per valorizzare delle produzioni tipiche locali legno e pietra. Per dare l'idea dell'importanza di questo strumento, Trentino Sviluppo gestisce un patrimonio di oltre un miliardo e ha una proprietà immobiliare di oltre 200 mila metri quadrati coperti. Il suo successo e la sua importanza sono probabilmente dovuti ad aver coniugato la snellezza operativa e l'agilità nel ricorso al mercato finanziario tipiche di una società per azioni con le regole, i principi di uguaglianza e di trasparenza tipici dell'operare pubblico. Abbiamo sentito appena adesso dallo stratega tecnico delle politiche industriali della provincia di Trento Paolo Spagni il che cos'è Trentino Sviluppo. Abbiamo in studio il presidente Trentino Sviluppo Diego Laner a cui chiedo subito abbiamo sentito prima da Spezzapria questo imprenditore che è venuto a investire nel Trentino l'importanza di questo accordo di Fly con Rolls Royce. Ecco, nel caso di Fly perché voi ci siete come avete fatto a come dire combinare questa alleanza fra pubblico e privato che mi sembra dalle premesse piuttosto positiva. Ecco, Fly è un po' il fiore all'ochiello delle partecipazioni di Trentino Sviluppo ma perché il fiore all'ochiello? Abbiamo un gruppo solido un gruppo proprietario molto solido un gruppo Forgital specificatamente e è un'attività particolarmente tecnologica particolarmente innovativa. Noi riteniamo che Forgital e Fly che deve essere il primo esempio per noi rappresenta una base dei nostri futuri interventi nel senso che Fly già appena insediata sostanzialmente ci ha consentito come territorio di attrarre altre realtà imprenditoriali e abbiamo degli imprenditori che ci chiedono mi interesserebbe localizzarmi nel contesto per la Fly è un'industria un po' leader diciamo nel settore e questo secondo me è uno dei compiti principali di Trentino Sviluppo cioè cercare di trovare delle industrie che abbiano un alto tasso di tecnologia un alto tasso di innovatività e quindi far crescere un po' tutto il sistema Trentino. Ecco visto dal punto di vista dell'imprenditore appunto Spezzapria Fly è venuta in Trentino perché? È vero che avevate delle offerte molto lontane geograficamente che avete scelto invece il Trentino? Assolutamente sì è vero noi si riferisce abbiamo parlato poc'anzi prima della trasmissione a questa proposta di Singapore tramite un ente simile alla Trentino Sviluppo la Singapore Development Board che appunto ci ha proposto di fare quello che noi abbiamo deciso poi di fare in Trentino a Singapore sempre supportati da dei finanziamenti che fossero adatti. Avete scelto Trentino perché? Trentino vabbè la storia in realtà è un po' insegna nel senso che noi in Trentino comunque già abbiamo degli rapporti che si basano su decenni di rapporti appunto con l'Università di Trento con dei professionisti dei commercialisti tra l'altro voi siete in Valdastico abbastanza vicini esattamente e questo è uno degli altri motivi per i quali abbiamo scelto Trentino è logisticamente vicino a Forza anche se non c'è l'autostrada della Valdastico beh ma su quello ci si può lavorare speriamo altri elementi plus che vi hanno fatto scegliere Trentino quindi appunto la vicinanza a Forza l'opportunità soprattutto anche di essere supportati da un tessuto amministrativo capace di far sistema anche in un momento economico di difficoltà come questo devo dire Trentino Sviluppo lo diciamo in quattro numeri Presidente Laner che cos'è oggi abbiamo sentito il miliardo di patrimonio di cui parlava Spagni numeri imponenti no? Per il piccolo Trentino numeri imponenti attività molto molto complessa società di capitali capitale interamente pubblico 99,6 provincia di Trento 0,04 università 50 dipendenti un miliardo di patrimonio diciamo e core business core business mi piace dire una cosa lo dica in 15 secondi perché poi c'è la pausa pubblicitaria imprese innovazione sostenibilità supportiamo le imprese innovazione tendiamo a migliorare il tessuto economico a dare un supporto per il miglioramento del tessuto economico provinciale sostenibilità sostenibilità nel campo ambientale e nel campo sociale le do la parola dopo la pausa pubblicitaria di nuovo poi a Trentino Economia dentro le nostre tasche Trentino Economia riprendiamo a parlare di imprese tra pubblico e privato abbiamo in studio Spezzapria imprenditore di Fly abbiamo in studio Laner presidente di Trentino Sviluppo e Sebastiani presidente di Trentino Trasporti Esercizio ricominciamo dal presidente Laner di Trentino Sviluppo quindi lei ci ha detto prima innovazione sostenibilità eccetera tutte le caratteristiche che voi cercate di sviluppare nelle aziende che aiutate ecco non è più Trentino Sviluppo se mai lo è stata perché forse non è mai stato questo lo scopo costitutivo una diciamo uno strumento un'ancora di salvataggio per imprese che stanno andando male e che in qualche modo bisogna salvare in nome dell'occupazione di altre cose assolutamente no pensiamo al nome Trentino Sviluppo il nostro compito è sviluppare il territorio e quindi la logica è questa dopodiché siamo in un momento un po' dedicato oggettivamente è dal 2008 che tutta l'economia non solo quella trentina sta diciamo soffrendo io tra l'altro vedo degli elementi di ripresa parlando sempre con le aziende sento dei segnali positivi sono fiducioso su questo è evidente che è stato un periodo negli ultimi tre anni particolarmente difficili particolarmente delicati però l'obiettivo del Trentino Sviluppo è consentire all'impresa con degli interventi da parte nostra di svilupparsi di crescere e di avere indirettamente un ritorno per il territorio un ritorno per le aziende dopodiché capita presidente che vada male sto pensando Marsili giusto? io spero di no ma purtroppo con Marsili cosa è successo a mio avviso e lo seguite anche personalmente peraltro Marsili è successo un business plan un'iniziativa imprenditoriale forse debole come sostanza questo l'abbiamo visto per la verità a questo si è aggiunto una crisi di mercato specifica nel settore del salume nel settore dei saccati che ha messo in difficoltà l'imprenditore e ha messo in difficoltà anche noi evidentemente ecco proprio in questi giorni si sta ragionando di cosa fare di Marsili ma passiamo per non intristirci dai salumi ai motori per aereo ecco ci dica il contenuto di questo accordo nel senso quanto vale ecco per Fly questo accordo anche in termini di fatturato in termini occupazionali beh per dare un dato partendo dalla parte così dei numeri di fatturato con Rolls Royce ricordo assolutamente con Rolls Royce di cui Fly è la capocommessa di conseguenza ha una bella responsabilità beh per darvi un'indicazione appunto il motore il modulo che Fly andrà a vendere poi a Rolls è sull'ordine dei 600-650 mila dollari per un ramp up per un progetto che avrà il suo picco probabilmente nel 2017-2018 con una produzione per Fly di circa 200 motori all'anno devo dire di cui voi fate quale componente? noi finiamo meccanicamente tutti i componenti che fanno che compongono il carter il fan case module dell'XWB motore appunto che equipaggerà il nuovo Airbus A350 quindi noi lavoriamo meccanicamente con le nostre macchine utensili controlliamo a misura e anche con dei test non distruttivi sui pezzi più applichiamo delle saldette delle palette in titanio su questi componenti quindi tutta la parte appunto del carter la parte esterna del motore un lavoro di alta tecnologia un lavoro di altissima tecnologia che richiede assolutamente un'accuratezza particolare con un mercato che però sappiamo il trasporto aereo nonostante qualche vicissitudine di qualche compagnia però è un trend sempre in sviluppo direi che il trend dall'analisi che ci fornisce la stessa Rolls ma comunque che leggiamo quotidianamente il trend è assolutamente positivo le previsioni di vendita non solo per Rolls ma per altri motoristi e comunque per tutto il settore del trasporto aereo è assolutamente in crescita e positivo il ruolo di Trentino sviluppo in FLY sarà un ruolo iniziale oppure sarà un accompagnamento costante nel tempo anche a medio e lungo termine sarà un ruolo iniziale un ruolo iniziale dal punto di vista finanziario potrà durare 5-10 anni quello che potrà durare dopodiché come tutte le aziende in particolare FLY noi facciamo sempre un supporto alle aziende forse l'attività che è meno conosciuta di Trentino sviluppo è la continuatività di supporto alle aziende indipendentemente da interventi finanziari o non il nostro compito sostanzialmente è quello di far crescere il tessuto economico provinciale quindi anche FLY ha maggior ragione FLY cercheremo di dare tutti i supporti necessari quindi non solo metterci i capitali ma metterci dei servizi non solo anche perché è una cosa importantissima la prima è sottolineata Tony Spezzapria l'importante è il rapporto dell'università e noi siamo molto contenti anche di questo progetto ma perché? perché c'è una qualificazione della mano d'opera in FLY diciamo tra virgolette lavora gente con i camici bianchi è quello di cui ha bisogno Trentino è l'eccellenza Presidente Sebastiani invidia per i motori di aereo rispetto ai motori degli autobus o no? invidia o gli piacciono gli autobus? invidia assolutamente no credo che ognuno piaccia il proprio motore ma gestire un bel servizio aereo fra Trento e Bolzano non le interesserebbe insomma con gli Airbus è un po' sproporzionato mi rendo conto diciamo che prima o dopo il mio incarico è Trentino Trasporti esercizio cesserai quindi sono disponibile per valutare altre opportunità a parte di Scherzi lei come vede questa partnership pubblico privato attraverso Trentino Sviluppo visto anche dall'esterno? ma guardi io ho avuto modo di conoscere Trentino Sviluppo in ambito professionale no? facendo parte di un collegio sindacale di una società dove Trentino Sviluppo ha assunto una partecipazione e si stanno gestendo alcune situazioni io credo che sia un matrimonio più matrimoni a parte di Trentino Sviluppo assolutamente importanti insomma per quella realtà che ho visto io la partecipazione è attiva e colgo anche l'occasione per dire che l'ordine dei commercialisti e i vari commercialisti che di volta in volta partecipano a questi organismi spesso e volentieri come componenti del collegio sindacale ma talune volte anche come amministratori danno un contributo a mio modo di vedere se il Presidente l'hanno d'accordo insomma credo assolutamente importante perché sono situazioni dove ci sono spesso e volentieri due realtà o delle situazioni di difficoltà che richiedono un impegno profondo e comune da parte di tutti gli attori oppure ci sono situazioni di eccellenza come può essere magari quella di Fly dove si richiede uno sforzo progettuale innovativo propositivo eccetera e anche in quel caso insomma devono emergere quelle che sono le professionalità ecco che allora i commercialisti a mio modo di vedere sono una categoria che per preparazione e competenza hanno la possibilità di dare un contributo anche in questo senso torniamo a Fly come avete fatto a vincere diciamo il contest per Rolls Royce immagino che non foste gli unici concorrenti che tentavano di avere questa commessa è stata una battaglia durissima durata due o tre anni i bidders inizialmente erano 34 quindi c'era un tavolo largato a 34 competitors immagino di tutta Europa o forse il mondo tutto il mondo diciamo pure mondo quindi competizione globale competizione assolutamente globale diciamo che poi la competizione si è sottigliata man mano che comunque le proposte arrivavano nel tavolo di Rolls e di conseguenza credo che le componenti siano state molteplici intanto io credo che l'aspetto tecnico l'aspetto della serietà dei nostri collaboratori sia stato assolutamente fondamentale l'aspetto che il fatto che Forgestal comunque fosse anche il produttore il fornitore della materia prima di Fly comunque dava un vantaggio non solo economico ma anche in termini di sviluppo tecnologico del particolare quindi c'è un rapporto assolutamente diretto tra la Fly che finisce questi componenti e il produttore della materia prima e poi indubbiamente anche qui mi riferisco ancora una volta anche al Trentino Sviluppo il supporto che Trentino Sviluppo e la provincia ha saputo dare anche quando la stessa Rolls ha chiesto in qualche modo chi poi c'era dietro a questa Fly e devo dire che la Trentino Sviluppo e l'amministrazione diciamo che l'ex tripla del Trentino ha servito anche allo scopo come dire assolutamente ha riconfermato l'entusiasmo e anche indubbiamente ha riconfermato l'impegno finanziario necessario ecco diciamo anche lei è un imprenditore vicentino in realtà la fabbrica è trentina nel senso le maestranze sono trentine ma anche i dirigenti sono locali in parte il nostro presidente il dottor Anghera è trentino il nostro plan manager Valerio Frigo è trentino tanti dei nostri manager delle nostre prime linee sono trentine ci sono laureate presso l'università quindi non è paracadutata la FLAI ma è innestata c'è anche un processo e un progetto di trentinizazione con il dottor Garofalo anche Alessandro proprio per perché abbiamo questa idea di veramente radicarci presidente Laner nel cantiere di Trentino sviluppo speriamo che ci siano altre FLAI o no? avete diciamo delle proposte delle idee? abbiamo detto un anno e mezzo fa che FLAI è un primo intervento ma deve rappresentare sostanzialmente una base di partenza per fare altre operazioni tipo FLAI c'è la Bonfiglioli avete visto dalla stampa secondo me in questi giorni famoso polo della meccatronica polo della meccatronica di Dovereto stiamo cercando aziende che possano insediarsi nel polo della meccatronica il polo della meccatronica è chiaro che vive ci sono le aziende che operano nella meccatronica presidente Laner si può dire che in questo caso un'azienda tira l'altra come le ciliegie nel senso che a insediamento diciamo positivo si può prospettare un'imitazione positiva sicuramente c'è un effetto di imitazione io dico sempre una cosa come c'è la contaminazione nei nostri BIC per esempio il fatto che ci sono tante aziende che lavorano vicino i BIC sono i business innovation center la gente parla lavorano bevono il caffè assieme vanno a mangiare assieme quindi c'è questa difficile a definire c'è questo sentimento sostanzialmente che consente di parlare tra le aziende e ricercare opportunità poi sostanzialmente stesso discorso vale se non portiamo dei champion sul territorio provinciale che questi champion attirano poi come dicevo prima altre aziende l'obiettivo quantomeno è questo ecco abbiamo parlato di trasporto aereo ritorno al trasporto invece urbano extraurbano Trentino Trasporti ecco cosa ci può dire il presidente dei vostri programmi di crescita di sviluppo di adeguamento del servizio di efficientamento i cittadini come dire si lamentano sempre per definizione del servizio pubblico però in realtà li vediamo anche noi insomma gli autobus girano servono più zone però nello stesso tempo ci sono problemi di bilancio il comune di Trento sta cercando anche di tagliare qualcosa ecco come siete messi mi dia un sentiment in 45 secondi in 45 secondi riprendo quello che dicevo prima in termini qualità del servizio siamo messi ai vertici è chiaro e non possiamo nasconderci né tantomeno io per il ruolo che rivesto il fatto che in questo momento ci sia un ragionamento complessivo sulle risorse disponibili che riguardano tutti i servizi pubblici in generale è chiaro che rispetto a questi rispetto a quei ragionamenti che andranno avanti in termini di risorse complessive un qualche ragionamento dovremmo farlo non credo che riusciremo ad agire ancora molto sul versante dei costi anche perché uno dei nostri problemi in questo momento è il costo del gasolio che per noi è incomprimibile quanto ha inciso nell'ultimo anno diciamo l'aumento del carburante ha avuto un aumento del 20% rispetto all'anno precedente e quindi sono botte dure sui bilanci e sono botte dure nonostante questo riusciamo a pareggiare il nostro bilancio per quello che riguarda le prospettive è pacifico che gli elementi di valutazione sono due la compressione dei costi nei limiti del possibile ma come dicevo prima rispetto al costo standard siamo i genitori gli organici sono quelli gli organici sono tarati per uno svolgimento equilibrato del servizio in questo momento siamo 1150 e quindi quella è la dimensione insomma quella è la dimensione insomma più di quello si può fare perché le esigenze sono queste e di nuovo nel finale dagli autobus agli aerei spezzapria allora come vede il futuro di questa azienda ricordiamo la localizzazione in Val Sugana esattamente a Grigno quindi estrema periferia o quasi della Val Sugana però anche in Val Sugana insomma si può fare delle cose che come dire vincono la competizione globale che vanno in partnership con giganti come Rolls assolutamente sì direi che se c'è questa capacità di innovare di crescere di crederci direi che assolutamente Fly è l'esempio che si può fare si può vincere si può seguire si può essere seguiti e non seguire un'idea seguire un'idea e farsi inseguire da essere protagonisti delle proprie idee ottimo fidiamo con il presidente di Trentino Sviluppo Diego Lanner in 30 secondi un imprenditore che ha una magnifica idea come i nostri amici di Fly cosa deve fare bussa alla porta di Trentino Sviluppo che fisicamente è rovereto ma che lo troviamo ma che in realtà è sul territorio noi cerchiamo di capire il business plan che ci presenta l'imprenditore cerchiamo di capire come dicevo prima innovatività cerchiamo di capire tecnologia cerchiamo di capire se c'è un interesse per il territorio con l'imprenditore si insedi sul territorio trentino dopodiché chiaramente noi facciamo un primo screening poi ne parliamo logicamente con la giunta provinciale la giunta provinciale valuta anche la giunta chiaramente del progetto e poi se le cose van bene si inizia l'avventura e speriamo di iniziare tante avventure ecco l'augurio che ci siano tante avventure speriamo di iniziare io ringrazio Tony Spezzapria Diego Lanner e Franco Sebastiani per la loro partecipazione grazie anche ai telespettatori a Trentino Economia alla prossima settimana un'altra puntata in collaborazione con